Mal d'aria è un progetto nato dal basso, dalla cittadinanza, da una serie di associazioni e cittadini che hanno sentito l'esigenza di dover capire l'area che respiriamo. È nato nel 2017, ha raggruppato un po' di persone interessate a partecipare attivamente. È stato uno dei progetti di Citizen Science che ha seguito quelli di Torino, Bologna, Brescia che facevano la stessa cosa. Cittadini che si sono riuniti per cercare di provare a cambiare qualcosa o farsi sentire la propria voce. La campagna Mal d'aria ha utilizzato delle banali provette, 60 provette, quindi sono state 60 ai cittadini che hanno aderito in maniera del tutto autonoma e che hanno partecipato attivamente perché hanno installato la provetta proprio sul balcone, sul balcone di casa. È stata esposta un mese e dopo di che, dopo un mese di rilevazione, sono state mandate le provette al laboratorio analisi che con opportuni calcoli hanno tirato fuori e stabilito i dati poi di effettiva misurazione di quello che c'era all'interno. Ogni provetta era numerata per cui si poteva risalire esattamente al punto in cui era stata installata, è stato rilevato il biossido di azzolo, quindi è traffico veicolare, esclusivamente traffico veicolare e i dati per certi versi sono anche sorprendenti. Per cui sì, si vede chiaramente l'incidenza del traffico veicolare, dei picchi di aumento in determinati punti, in determinate zone, anche a seguito delle confronti e comparazioni con le centraline dell'ARPA che misurano e monitorano i dati costantemente. Il progetto comunque continua e a breve, ormai veramente a brevissimo, usciremo con la campagna che riguarderà tutta la città, prevederà l'installazione di nuove centraline, un pochino più elaborate, sono centraline Wi-Fi che misurano i dati H24 connesse appunto al Wi-Fi e manderanno i dati a una piattaforma internazionale già esistente, un progetto dell'Università di Stoccarta, per cui a breve ci saranno tutti i dettagli e speriamo che la partecipazione sia altrettanto numerosa. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!